burda curvy numero 4 edizione 2023 vuoi spogliare insieme a me il guardaroba per la linea curvy all'interno di questo video tutorial ti darò i miei suggerimenti personali per scegliere i giusti tessuti le giuste taglie burda e come andare a modificare i cartamodelli per renderli perfetti per la tua fisicità pertanto se hai voglia di spogliare con me il nuovo burda curvy 4 2023 sei nel video tutorial giusto bentornate o bentornati e benvenuti nel mio canale io sono Sara Poiese content creator e all'interno di questo sfoglio di rivista del burda curvy scopriremo insieme le tendenze moda per le taglie burda che vanno dalla 44 alla 60 ma che cosa significa avere una taglia dalla 44 alla 60 burda significa che devi ragionare nel rapporto tra taglia tedesca e taglia italiana la taglia tedesca burda 44 corrisponde alla taglia italiana 48 infatti devi aggiungere due taglie al numero della taglia che trovi sempre sulla rivista burda la taglia 44 avrà 46 48 di corrispondenza nella taglia italiana pertanto l'ultima taglia burda disponibile nello sfoglio della rivista che corrisponde alla taglia tedesca 60 corrisponderà alla taglia italiana 60 62 64 due taglie in più pertanto comprendi bene che lo sfoglio di questa rivista ha un range di taglie veramente molto ampio andiamo a sfogliarlo insieme partendo proprio dalla cover che ha questo bell'abito chemisee che andremo a studiare e approfondire assieme si inizia dal sommario dove c'è un riassunto di alcuni dei modelli che verranno proposti e si inizia con la gonna 404 nelle taglie 44 52 quindi abbiamo imparato a capire che corrispondono alle taglie italiane 48 56 abbiamo una bella gonna con una pence davanti e l'altra pence che è nascosta in realtà è assorbita dalla sagomatura della gonna stessa dietro abbiamo ben due pence a sinistra due pence a destra che è un plus non indifferente perché poter creare tante pence nel dietro della nostra gonna ci aiuta a personalizzare il modello qui mi permetto di darti un suggerimento se vuoi tagliare il centro dietro della gonna e mettere dunque il punto di cerniera zip proprio nel centro dietro ecco questa modifica è perfetta perché perché questo modello originale di gonna avrebbe il taglio nel fianco ed è perfetto se magari hai una stoffa stampata della quale vuoi lasciare intatto il centro dietro ma se è una stoffa tinta unita e vuoi magari mettere questo volant dello stesso colore per creare una gonna sobria ma al tempo stesso creativa e simpatica e svolazzante puoi pensare di mettere il taglio nel centro dietro perché ti dico questo perché poter mettere il taglio nel centro dietro della gonna ti permette di dare una maggior sagomabilità alla gonna stessa infatti puoi andare ad avere le due pence destre e sinistre ma anche un taglio centrale che ti aiuta a sagomare meglio il punto del gluteo dietro nella gonna stessa tessuti leggeri tessuti fluenti tessuti che possono ondeggiare bene per rendere questo volant un progetto di successo ti consiglio di scegliere tessuti leggeri ma coprenti perché così puoi evitare di usare la fodera la puoi combinare volendo con una camicia classica o anche comunque con una casacca a condizione che questa casacca magari sia portata internamente adesso andiamo anche a vedere come personalizzare questa casacca il modello 409 è caratterizzato da un bello scollo a v una manica abbastanza classica e un punto di taglio in vita con una possibilità di personalizzazione nella parte inferiore vediamo come personalizzare questo progetto la casacca 409 la puoi personalizzare con uno scollo a v dotato di piping di cordoncino ho parlato di come rifinire il cordoncino anche nel mio blog infatti nella info box qui sotto cioè la descrizione del video puoi trovare i link a tutti i miei canali social il blog la academy il canale youtube il profilo instagram la pagina facebook ma anche lo shop amazon e anche la possibilità di iscriversi alla mia newsletter gratuita l'info box la trovi qui sotto cliccando sul titolo del video che stai visualizzando se lo guardi da smartphone mentre se stai guardando da tablet o computer ti basterà cliccare sulla parolina mostra altro posta sotto al titolo e ti comparirà la descrizione completa mi raccomando vai sempre a guardare la info box cioè la descrizione completa del video perché in tutti i miei video nel canale youtube nella descrizione vado ad inserire altri contenuti aggiuntivi importanti che ti permettono di personalizzare o ulteriormente approfondire il contenuto che ti sto magari raccontando qui in video nell'info box qui sotto infatti adesso ti lascio il link al video tutorial correlato di come realizzare il piping sugli abiti cioè proprio questo bordino questo profilo che si può applicare su uno scolla v ma anche su un punto vita ma anche su una manica come puoi personalizzare questa blusa se la vuoi portare in figura su un pantalone questa arricciatura può essere meravigliosa ma se ti piace tanto lo stampo di questa blusa e vuoi indossarlo magari in maniera un po più asciutta ti basterà ridurre ridurre la banda sottostante che è un rettangolo di tessuto ridurre dunque tutta l'arricciatura e portarla fondamentalmente ad avere 4-5 centimetri in più solo del tuo punto fianco in modo tale che tu sei sicura di passarci di fianco su questa blusa metti caso di avere 100 centimetri di giro fianco se questo rettangolo lo fai da 104-105 sei sicura che di fianco ci passi ma al tempo stesso hai ottenuto un lavoro molto meno arricciato sul punto superiore e quindi puoi indossare questa blusa anche dentro alla gonna proprio con lo stesso effetto di questa camicia bello questo aspetto vero tessuti leggeri come la mussola come lino come la viscosa perché devono essere freschi infatti guarda in realtà come la stessa blusa viene trasformata in un maxi abito questo scollo a v che tu vedi giallo altro non è che lo stesso scollo a v che tu vedi qui rifinito con il piping questo ha una balza qui di balze ne sono state aggiunte due riesci a capire che se dunque tu vai a portare diritto questo contenuto hai mantenuto un bel corpetto sopra e sotto puoi fare tutte le varianti del caso anche qui può essere perfetto il lino possono essere perfetti tutti i tessuti leggeri e hai uno stampo per la manica lunga mentre qui avresti lo stampo della manica corta stesso modello buone varianti di personalizzazione tra l'altro ti lascio sempre qui sotto in infobox anche un altro link importante per insegnarti a lavorare bene questa scollatura con lo scollo a v con una piccola paramontura ne parlo infatti nel dettaglio qui sotto in infobox nel corso completo dedicato alle scollature c'è il corso scollature 1 corso scollature 2 corso scollature 3 all'interno del quale puoi imparare a personalizzare tante scollature diverse ci sono poi gli shorts 405b perfetti da realizzarsi secondo me in jersey in maglina in maglina di cotone ma anche in maglina di viscosa o perché no in tutti quei tessuti sportivi per il mare come il triacetato magari che si asciugano in gran velocità e che sono molto leggeri e coprenti perché devi scegliere un tessuto leggero perché hai l'arricciatura dell'elastico in vita nel mio blog trovi un tutorial se vai nel blog lo trovi sempre qui sotto in infobox e scrivi pantaloncini oppure pantaloni corti trovi una serie di tutorial che ti insegnano a realizzare i pantaloni corti non importa che il modello non sia questo del burda curvy ma magari sia il modello di un burda di un altro numero l'importante è imparare la tecnica per cui torna nel mio blog linkato qui sotto cerca pantaloni e vedrai tutorial per realizzare questi pantaloni corti la maglia 407 io devo essere onesta non so se mi piace non so se mi convince mi spiego meglio questo gioco di secondo tessuto che c'è qui che altro non è questo non è una maglietta sotto e sopra è una camicia è un tutt'uno cioè ti dà l'effetto di avere una camicia con sotto una t-shirt in realtà il cartamodello è uno unico è bello l'effetto però forse onestamente non l'avrei scelto magari di questi colori o ancora avrei fatto un cambio diverso proprio di stile questa camicia sembra una camicia molto sportiva con sotto una maglietta ti lancia uno spunto creativo perché non realizzare la parte in tessuto 1 cioè tessuto tinta unita magari in un tessuto un po' trasparente come lo chiffon e la parte centrale davanti invece in pizzo otterresti così una bella casacca da indossare per un appuntamento elegante oppure ancora cercherai di restare tono su tono magari tenendo una parte esterna di tessuto più chiara e la parte interna sempre tinta unita ma più scura ottieni così un effetto più sobrio rispetto magari al gioco delle righe a te la scelta l'importante in questo caso è optare per tessuti leggeri come il cotone oppure la viscosa o ancora potresti optare per un rasatello di cotone purché sia davvero molto leggero il lino qui è perfetto e anche il liocell o il cupro sono tessuti che veramente ben si prestano allo sviluppo della maglia 407 che tu la faccia anche lunga o che tu la tenga a questo stampo hai un progetto molto simpatico perché ti ho proposto di tenerla lunga perché se tu la allunghi completamente cioè porti lo stampo alla caviglia hai così in realtà ottenuto una vestito che sembra che tu abbia sotto una t-shirt o una canotta al quale sopra metti uno scemise molto lungo e anche qui ti dico trasforma questo progetto in un perfetto progetto per il mare cioè realizza questo tessuto esterno lungo lungo in magari mussola di cotone oppure in un pizzo garzato molto leggero effetto copricostume e realizza la parte davanti invece in un altro tessuto a contrasto avrai così l'opportunità di avere un finto copricostume lunghissimo meraviglioso che potrai semplicemente completare con una cinta in vita molto belle le varianti che puoi apportare sulla lunghezza lo scemise 401 e anche l'abito di copertina mi piace tanto perché sagoma la figura tutta questa leggera arricciatura nel punto seno conferisce anche un bel volume al décolleté e lo va a rendere molto femminile al tempo stesso ti consiglio di realizzare questo capo con un cotone elasticizzato come il rasatello di cotone stretch il cotone stretch o anche tutti quei tessuti misti sintetici che sono però molto leggeri per l'estate purché siano leggermente elasticizzati in modo tale che tu possa sottolineare il punto vita rendere molto femminile il décolleté con questa scollatura leggermente aperta avere un capo anche business perché è comunque un taglio camicia e optare per un tessuto leggermente elasticizzato che migliora il comfort di un taglio molto asciutto ti consiglio in questo caso se vuoi la variante non ad abito ma a camicia di tagliare lo stampo proprio all'altezza del fianco che a te più aggrada e trasformi questo stampo in una perfetta camicia che veste davvero asciutta perché avrai una pence orizzontale che veste il seno avrai due pence dietro per vestire il corpetto e avrai un fantastico stampo di camicia dal taglio asciutto perfetto per l'estate e se poi vuoi allungare semplicemente la manica ottieni una camicia per l'inverno stupendo comunque una camicia per la bella stagione da indossare perché no magari come faccio spesso io con le maniche rimboccate e quindi ottieni proprio questo effetto di camicia che si apre leggermente a me piace tantissimo e questo è uno dei capi che prediligo per questo numero la t-shirt 403 si personalizza per il dietro fondamentalmente anche qui ci sono infinite possibilità di personalizzazione puoi prendere il corpetto davanti e dietro in un tessuto a tinta unita e puoi andare a duplicarlo con la manica e il dietro in un tessuto a contrasto per esempio il questo conferirà alla tua t-shirt un look più elegante al tempo stesso potresti proprio doppiare il tessuto e fare per esempio tutta la t-shirt in tessuto stampato doppiare la manica e il dietro in un tulle operato e applicarceli sopra proprio quindi quando cuci la manichetta la cuci con un tessuto doppio perché sotto c'è il tessuto stampato sopra il tulle operato e lo stesso tulle operato lo metti dietro in questo caso ottieni un effetto veramente molto romantico anche qui puoi usare tessuti che siano leggeri e non trasparenti però puoi anche scegliere un tessuto trasparente come doppio tessuto come tessuto numero due che andrai ad applicare esattamente sopra il 410 invece si chiama tankini è fondamentalmente la versione del bikini una sorta di costume due pezzi che però copre il punto dell'addome infatti ha la sagoma del costume due pezzi fino a qui ma poi viene coperto tra virgolette da una sorta di maglietta che viene applicata la comodità di questo modello sono le fibbie larghe nella spallina che si può anche regolare a piacere perché proprio nella realizzazione del modello puoi imparare a accorciare o allungare la spallina io lo trovo molto comodo se applichi questa semplice variante porta lo stampo della parte inferiore completamente fino alla caviglia e hai trasformato questo stampo esterno in un abito lungo mi spiego meglio fermati perché dentro a questo modello ci sono tante personalizzazioni uno questo modello sotto a la parte del costume intero cioè lo slip attaccato a tutta questa parte sopra ok mi spiego bene se tu alzi questo orlo di maglietta sotto c'è il costume intero quindi prima opzione realizzo il costume intero ci applico sopra questa applicazione questo strato aggiuntivo fino al fianco e così ho l'addome coperto e ho il mio tanchini seconda opzione realizzo il costume intero non più in tessuto per il mare ma magari in una licra nera elegante la parte sopra la porto lunga fino alla caviglia e così ho un abito da sera per l'estate ovviamente per il mare magari lavorato in chiffon in pizzo in macramè in tulle operato e quindi ho trasformato questa versione in lungo mantenendo sotto il costume oppure ancora altra opzione tieni questo stampo sia nel corpetto superiore sia nella parte di maglietta che copre togli completamente il costume sotto perché non lo vuoi e semplicemente trasformi questo progetto in un abito un abito lungo senza il body sotto che ti funga proprio da o canotta bella da blusa carina fino al fianco ignorando l'esistenza del costume o lo porti lungo fino alla caviglia e diventa un abito quindi attenzione perché può essere un tanchini corto un tanchini lungo una blusa senza il costume intero sotto che arriva al fianco oppure un abito lungo meraviglioso il servizio prosegue poi e infatti vedi che te l'avevo anticipata con lo stesso abito verde che abbiamo visto prima che è lo stesso abito della copertina se accorciato diventa camicia guarda infatti quanto diventa bella anche nella versione della manica lunga che hai qui per cui in copertina trovi la manica corta e l'abito lungo ma trovi anche la manica lunga e la versione a camicia e trovi riproposta la stessa gonna che avevamo visto prima in tessuto stampato questa volta in tinta unita quindi vedi che il progetto si ripete e viene proposto lo spolverino invece 413 questo spolverino ha del potenziale ha del potenziale perché perché se lo realizzi in tessuto estivo come lino come l'iocell il cupro o anche la seta lavata è un perfetto spolverino per la stagione comunque più calda mentre se lo realizzi in panno di lana questo spolverino è perfetto per l'inverno quindi questo stampo può essere reciclato quattro stagioni è un capo un po' complesso da realizzare sicuramente bisogna imparare a realizzare il collo ma noi abbiamo in academy il corso giacca 2 che ti insegna a realizzare un capo senza fodera con questo tipo di collo per cui torna qui sotto in info box trovi il link dei miei corsi online e potrai scoprire il corso confezione giacca 2 che in realtà ti insegna a lavorare questo tipo di collo e che diventa il corso perfetto per approfondire la realizzazione di questo spolverino abbiamo poi la giacca che ti consiglio caldamente come modello anche se tu volessi fare magari il corso confezione giacca 2 in academy perché ti insegna a lavorare una giacca sfoderata con questo tipo di collo e proprio questa tasca fatalità quindi se già mi segui in academy e ti piacerebbe imparare a confezionare una giacca sfoderata dalla ala z in academy trovi il progetto per le taglie regolari con questo cartamodello segui gli stessi identici passaggi in academy e hai la giacca sfoderata con il collo lavorato così e impari a cucirla passo passo con me tessuti leggeri tessuti come lino la seta lavata ma anche magari il cupro o perché no il crepe ma anche il cadì questo modello io lo trovo perfetto anche in shantung di seta lo stesso discorso vale per il pantalone a fianco il 412 perché bisogno di tessuti che siano leggeri ma che siano coprenti che non abbiano bisogno di essere foderati al tempo stesso che possano essere freschi lo shantung di seta ben si presta si presta bene anche il cupro si presta molto bene il lino si presta bene la seta lavata ma si presta bene anche la seta grezza o comunque tutti quei tessuti anche il cotone il rasatello di cotone che sono estivi o perché no tanti crepe in poliestere che non strupicciano e che sono perfetti proprio per un look estivo e leggero proseguiamo nello sfoglio della rivista con la panoramica di tutti i modelli a colpo d'occhio abbiamo visto che la gonna è stata duplicata che la camicia è stata duplicata che la blusa è stata proposta in versione corta o lunga che il tankini può diventare una maglietta ma anche un costume ma anche un abito lungo che la t-shirt viene proposta in tante varianti abbiamo poi la stessa variante che infatti vedremo più avanti come ti avevo proposto prima della maglietta corta se riproposta in lungo guarda che bell'effetto diverso ottieni e ancora puoi approcciarti al pantalone corto in versione più sportiva un pochino più classica ad abbinare magari ad una maglietta semplicemente con il giro collo e la pensa orizzontale e rivedi anche appunto lo spolverino e una variante di giacca che viene proposta nella parte finale della rivista abbiamo ovviamente tutte le istruzioni su come confezionare le varie parti dei modelli come confezionare anche il tankini quindi il costume e poi proseguiamo nello spoglio della rivista con alcuni mix e idee di abbinamento e il servizio dedicato allo stile sul podio per lo sport e il tempo libero propone questa giacca 414 caratterizzata da tasche applicate da una lista bottonatura coperta da delle maniche con un'arricciatura e un bel giro collo semplice che puoi anche qui arricciare con un cordino ovviamente qui i tessuti consigliati sono sì leggeri però devi trovare dei tessuti tecnici magari come il tessuto classicamente letto per le key way cioè per quei giuppini antipioggia che si prestano bene perché non fanno passare l'acqua quindi sono idro repellenti ma sono al tempo stesso leggeri la versione corta che avevamo visto prima come ti ho anticipato della maglietta mescolata a questa sorta di cardigan si può completare proprio in questa variante di abito bella sia creando la maglietta a se stante quindi tutta la maglietta e tutto il cardigan ma anche attaccando proprio l'effetto di avere questa maglietta perché se tu ci pensi basta cucirlo e bloccarlo per avere proprio questa sorta di maglietta attaccata al cardigan in un unico tessuto quindi a te la scelta o gestire proprio due progetti separatamente che uno lo metti sopra l'altro o andare a bloccare il cardigan nella cucitura davanti della maglietta e tenere un unico progetto gli shorts sono gli stessi che sono stati proposti prima e che ti permettono anche di creare il tuo guardaroba sportivo e perché no anche una bella t-shirt come la 415 da lavorarsi magari in cotone comodo e confortevole può essere anche un'alternativa alla classica t-shirt di cotone che trovi nei negozi e che ti permette anche di personalizzare il tuo guardaroba pensaci infatti poter avere un pantaloncino coordinato con una maglietta fa molto anni 50 fa molto stile capri ed è veramente un bellissimo dettaglio la rivista si conclude con l'approccio di un modello tre look perché viene proposta la giacca per uno stile casual la giacca per uno stile un attimino più romanti boho e la giacca in una variante un po più sportiva e ti insegnano anche un pochino come andare a modificare gli abiti e le gonne il servizio si conclude con il modello easy la maglia 416 che è una rivisitazione già vista in vecchi numeri burda dove la cosa bella è che questa maglia parte dalla taglia 46 arriva alla 60 burda ciò significa che partiamo dalla 50 italiana e arriviamo alla 64 italiana ed è un modello molto performante da realizzarsi in viscosa perché ha tutta questa bella morbidezza che ci permette di vestire comode e fresche con una parte dietro più lunga rispetto alla parte davanti non salto nessuna pagina il burda curvi ti ricorda che puoi trovare gli arretrati sulla rivista sul sito di burda e questa è la fantastica copertina di questo nuovo burda curvi che ci ha accompagnato in questo sfoglio grazie per aver condiviso con me il tuo tempo la tua passione per il cucito se questo video ti è piaciuto metti un bel pollice alzato e fammi sapere nei commenti quale modello ti è piaciuto di più e come lo vorresti realizzare noi ci vediamo al prossimo video